Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Firenze Sud, però venendo da Bologna per lavori. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Arriviamo in Fipili dove troviamo due chilometri di coda per lavori in direzione Livorno tra Genestra ed Empoli Est, in carreggiato opposta il traffico è rallentato tra Empoli e Montelupo. Sempre in Fipili per incidente, un chilometro di coda verso Firenze tra Santa Croce e San Mignato. Con riguardo al traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato in via De Perfetti Ricasoli. Stessa situazione in via Gerardo Silvani. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!